Piedrini contro... Stefanelli Piedrini, rosso, Stefanelli, blu Al centro Angolo blu pronto? Angolo rosso pronto? Tavolo? Pronti? Un rondo 4 finale? Fight! Piedrini controllo eh! Piedrini controllo eh! Quello che avevamo visto un po', visto? Piedrini controllo eh! Piedrini controllo eh! Piedrini controllo! Scivola senza fretta, senza fretta, scivola con calma! Bravo! Piramide, piramide! Bravo! Piramide! Tettaccio! Bravo! Dai 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 dai! Dai che ce l'hai! Bravissimo Nicola, ottimo! Entra! Così! Lavoro adesso! Grazie! Maricolo! V Taccio! Lavoratelo adesso! Con calma! Con calma! Con calma! Banca chiuse! Con calma! Vai a salire, vai a salire con calma! Salire con calma! Siamo a metà. Giambe chiuse. L'imbarcata è spanciata. Forza, bravo così. Provalo, provalo. E recupera il braccio. Ti ricordi cosa abbiamo fatto? Stessa cosa e recupera il braccio. Stessa cosa e recupera il braccio. Oh, recuperalo. C'è il braccio sempre esterno. Devi ricordarti cosa si fa col braccio esterno. Un minuto. Un minuto, Nicola. Imbarca, spanciata e recupera il braccio. Imbarca, spanciata e recupera il braccio. Sali col corpo. 30 secondi, Nico. Devi provare qualcosa. Forza. Via dalla gabbia con la testa. Via dalla gabbia. Recupera il braccio. Via dalla gabbia con la gabbia con la gabbia con la gabbia. Grazie. Ti ricordi cosa è? Non c'è, grazie. Vice ai punti e nel campione italiano su Tor MNA Light per la P91 kg, Alan Pietrini, NG MNA. Grazie. 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 Grazie.